Sono stati ancora i colori fucsia della scuderia di Paolo Favero a caratterizzare la giornata sportiva di Maia. Il clou del pomeriggio, rappresentato dal premio Something Special, ha visto la vittoria di Magica Vita sul compagno di colori di allenamento Ocean Secret. I due hanno inscenato un finale a dir poco vibrante, lasciandosi alle spalle Chiaromonte. In apertura di convegno è arrivata la vittoria a sorpresa di Moncioliano, montato da Bartos, che ha lasciato a distacco il compagno di scuderia Aragold. Nella seconda corsa in programma è arrivata la vittoria della mazzone Evelyn Poel, che in sella a direct drive ha regolato di poco il banchiere montato dal beniamino di casa Riccardo Belluco. Nel premio Gargazzoni in evidenza, signor Tiziano, che nei pressi del traguardo ha giustiziato un generosissimo rel con Nordic. Nell'altra piana, King of Axum ha ritrovato la vittoria, nell'occasione ben calibrato dal suo interprete, seconda moneta per Raimondi. Nel premio Casterrotto, Ride From Gold ha finalmente ritrovato successo, secondo posto per l'eterno Marchi. In chiusura in evidenza ancora i colori di Paolo Favero, con Raffaele Romano, vincitore in sella hit Tecchette. Si torna in pista domenica, in primo piano il premio Grand Stipple Cheese d'Europa.